Siamo la IPA, Industria Porcellane S.P.A. L'azienda nasce nel 1955 da un'idea di Egidio Sala. Qui produciamo tazze per torrefattori rivolte al mercato professionale. Essendo produttori possiamo sviluppare forme e disegni di qualsiasi tipo. Stiamo ascoltando le esigenze del cliente e vediamo di vestire il suo prodotto, che è il caffè, in modo che si presenti al massimo la qualità che lui intende mostrare al proprio cliente. Possiamo produrre forme e cuociamo in atmosfera riducente la porcellana a 1400 gradi. Più è alta la temperatura, più è resistente il pezzo finale. Le nostre decorazioni sono tutte sotto smalto, superano i severi test di alimentarietà del prodotto. Il design che noi sviluppiamo è legato comunque a vestire il caffè. L'espresso è in tutto il mondo riconosciuto come un prodotto italiano. Avendo come clienti i maggiori produttori di caffè, noi ci sentiamo comunque rappresentati nel mondo. Noi saremo presenti nel laboratorio Ceramico of Italy fornendo delle tazze dei nostri prodotti che saranno poi utilizzati all'interno di questo laboratorio. Siamo fieri di essere rappresentati da questa mostra e di partecipare a questo evento. Abbiamo realizzato assieme a Illy una collezione legata al logo Expo. Grazie a questa collezione possiamo dire di portare Expo in tutti i bar d'Italia. Grazie a tutti! Grazie a tutti!